Altri dati economici negativi, altra caduta delle borse. In Cina il meccanismo è ormai consolidato e non sono bastati i dettagli da parte delle autorità di Pechino sulla ristrutturazione delle imprese statali a bloccarlo. I timori sulla crescita della seconda economia mondiale, che nel terzo trimestre potrebbe scendere sotto il 7%, sono rinfocolati dalla frenata degli investimenti fissi nei primi otto mesi del 2015. Rallenta anche la produzione industriale, cresciuta solo del 6,1% ad agosto. Risultato, l'indice di Shanghai ha perso il 2,7%.